Tre testimoni del pubblico ministero sono stati ascoltati questa mattina in tribunale dal giudice Marco Billi alla ripresa del processo per l'operaio 64enne di Pettorano Sulgizio che l'11 settembre 2014 uccise con colpi di arma da fuoco un giovane esemplare di Orso Bruno Marsicano. Il giudice ha completato la costituzione delle parti civili, cinque associazioni con il Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise e ha messo tutte le prove. Davanti al giudice si sono presentati la figlia dell'imputato e gli agenti della forestale che hanno spiegato come si sono svolte le indagini e come sono risalite l'individuazione dell'operaio 64enne come presunto responsabile dell'uccisione di animale di specie protetta con arma da fuoco. Da parte del giudice c'è l'intenzione di chiudere subito il processo, hanno spiegato l'avvocato Michele Pezzone del WWF Francesco Zurlo che difende l'imputato. Abbiamo quindi poi ammesso le prove, è stato importante perché il giudice ha messo tutte le prove e quindi anche le prove che sono state richieste dalle parti civili, oltre dei testimoni abbiamo chiesto anche un supplemento di consulenza circa la perizia balistica. Nella prossima udienza del 12 dicembre, già calendarizzata, saranno ascoltati i testimoni delle parti civili, mentre il 16 gennaio quelli della difesa con successiva discussione finale. Il processo quindi entra nel vivo e per conoscere l'essito si prevedono tempi brevi.